I finestrini anteriori aperti, la terza marcia inserita e la chiave in posizione di spegnimento del motore. Sono questi alcuni degli elementi che sarebbero emersi dagli accertamenti effettuati sulla Fiat Panda Rossa di Victory in Bucci, recuperata dai fondali del porto di Termoli e al cui interno è stato ritrovato il corpo della donna di 42 anni, Dilarino. Riscontri e ipotesi che ora forniscono altri dettagli che potrebbero risultare significativi agli investigatori. Esami ripetibili a cura del perito nominato dalla procura che ha 90 giorni di tempo per cercare di stabilire da dove e in che modo l'auto sia finita in acqua. Agli accertamenti hanno assistito anche il compagno di 42 anni di Termoli, al momento unico indagato, assistito dall'avvocato Ruggero Romanazzi e l'avvocato della famiglia della donna Eugenio Marinelli. È stata prevista anche una simulazione tecnica per ricostruire le possibili fasi della caduta dell'auto, ora integrate anche dai nuovi elementi emersi dagli accertamenti. Si aspettano intanto i primi risultati dell'autopsia affidata all'equipe del professore Francesco Introna ed effettuata a Bari. Obiettivo degli esami peritali, fare chiarezza sulla morte della donna e dare una risposta alle sue ultime ore di vita.